Salve, bentrovati nel nostro spazio dedicato al pediatra di fiducia. Oggi con il dottor Paparone parleremo di bambini ed acqua. Ma quanta acqua deve bere un bambino durante la sua giornata e a qual età introdurre l'acqua? L'acqua in genere si comincia ad introdurre con lo svezzamento. Quinto o sesto mese si comincia ad offrire. Ci sono bambini che l'accettano, altri invece che utilizzano come fonte idrica ancora il latte materno artificiale. Ma in genere appena arriva l'estate un po' tutti cominciano a bere. E' importante l'educazione al bere. I bambini oggi bevono pochissimo ed è un serio problema. L'acqua ha funzioni disintossicanti, idratanti, che sono essenziali per il buon funzionamento del nostro corpo. Bere poco può anche indurre verso l'obesità. E dunque è bene che i genitori si impegnino fin da piccoli ad abituare il bambino a bere. E' bene anche fornire il bambino quando va fuori e va a nuova scuola di bottigliette con l'acqua e controllare che la bevano. L'educazione all'acqua dovrebbe essere fondamentale. Un bambino dovrebbe bere da un litro o un litro e mezzo di acqua. In periodi particolarmente caldi anche due litri. E così dovrebbero fare anche i genitori. Bere poco può pregiudicare il funzionamento di organi importanti, di quale in particolare il reno, il fegato, e può determinare proprio uno stato di malessere in quanto viene meno la funzione detossificante dell'acqua. Fin da piccoli offrire l'acqua. Se noi per due o tre mesi ci impegniamo a offrire spesso l'acqua a bambino, questa diventa un abitutino. Perché più acqua facciamo bere, più adiuretina produce il bambino, che è l'ormone della sete, e più ne sentirà la necessità. Se non offriamo l'acqua, produrranno poco adiuretina e berranno sempre poco. Dunque, se diamo uno start iniziale offrendo acqua, magari ogni 20 minuti, mezz'ora, aumenterà la produzione di questo ormone che si chiama adiuretina e il bambino manterrà una buona abitudine a bere. Dunque, è necessario che i genitori si impegnino per far sì che i bambini bevano. Basta un impegno di due o tre mesi per dare lo starter per tutta la vita a bere acqua.